6 giocatori in doppia cifra nel sorprendente successo come entità ed autorevolezza dell'audace a Calderara. Gli ospiti avevano preparato benissimo la partita togliendo dal campo in primis il pivot Nanetti e poi limitando i vari Cera, Lanzi e Valenti. Erano le trippe degli ospiti a creare la prima spaccatura nel corso della frazione iniziale, 11 a 20 al decimo. Il secondo periodo scattava con i canestri di Benetti, Mazzetti e la trippa di Mantovana del 13 a 27 al dodicesimo. Valenti guidava la rimonta dei locali che sembrava concretizzarsi al diciannovesimo quando Lanzi realizzava il canestro del meno 2, 29 a 31. Errore perché l'audace sprintava e chiudeva i conti con un parziale di 1 a 18, 30 a 49 al venticinquesimo con Pellegrini in evidenza. Berselli allora optava per la zona, ma la forbice non scendeva mai sotto i 10 punti, anche grazie all'attenta difesa ospite. Chiuso il terzo quarto sul 45 a 60, Calderara non aveva l'energia mentale per riportarsi sotto e così l'osi 3 dilagava, toccando il massimo vantaggio sul 53 a 80 con le due triple del play under Mazzetti.